Allora, un brutto sabato per Juventus e Milan per ragioni diverse. Sono due pareggi contro due squadre che dovevano essere battute e che mettono però sul banco degli imputati i due allenatori. Entrambi hanno fatto delle scelte o dato delle spiegazioni che non possono essere accettate così a cuor leggero. Intanto cominciamo con la Juventus. L'analisi di fine partita che fa Allegri è perfetta, ma Allegri non è pagato per fare analisi, è pagato per risolvere i problemi. Quindi che Allegri dica, noi su 15 punti contro avversarie, diciamo così, deboli, ne abbiamo fatti soltanto due e questo è un problema, beh, non serviva avere Allegri che venisse a spiegarci. Ce ne eravamo accorti tutti, noi e i tifosi. Il problema è come superare questo tipo di problemi. Ecco, che Allegri continui a denunciarli dimostra due cose. La prima è che non è riuscito a risolverlo. E la seconda, che mi sembra più grave, è che Allegri in qualche modo ha sbagliato nella valutazione della Juventus. Cioè, se la squadra è così mal ridotta, se la squadra non ha le caratteristiche che cerca lui, quelle del gabbione, quella dei vincenti, la tesi di Allegri è che le partite non si vincono tanto con la tattica, si vincono con lo spirito vincente. E lo spirito vincente o non ce l'hai o non ce l'hai. Questo è quello che lui ha sempre detto. Bene, quando Andrea Agnelli gli ha proposto di ritornare alla Juventus e lui ha accettato, sapeva benissimo che il suo obiettivo era fare meglio di quello che aveva fatto Pirlo, che era arrivato quarto e agli ottavi di finale di Champions League, peraltro vincendo una Coppa Italia. Ora, se lui ha detto sì, come ha detto sì, ha rifiutato anche delle offerte importanti, ricordo quella del Real Madrid, era perché evidentemente ha sbagliato la valutazione della squadra. Eppure aveva tutto il tempo per capirla questa squadra. Aveva avuto due anni di tempo, anche perché lui abbia detto che non si era messo a guardare le partite, che voleva un po' staccare dallo stress dell'allenatore. Però, evidentemente, aveva battezzato la Juventus come una squadra con tutti i crismi per fare meglio. Fare meglio voleva dire insidiare fino alla fine l'Inter nella lotta per lo Scudetto. essere, in questo momento, vicino all'Inter. Un punto sopra, due punti sotto. Non a danni luce di distanza, perché non dimentichiamo che la Juventus potrebbe finire, in questo momento, a 13 punti dall'Inter. Dopo neanche metà campionato. Insomma, evidentemente Allegri ha sbagliato completamente l'analisi della squadra. Nel momento stesso in cui ha accettato di tornare ad allenarla, ha convinto che col suo contributo le cose migliorassero. Convinto che, mandando via Ronaldo, si potesse prendere Kane, perché questa è stata l'operazione, e che alla fine il risultato della squadra fosse analogo. Convinto che ci fosse una crescita di taluni giocatori che non sono cresciuti per niente, uno dei quali è Dybala. Dybala non è cresciuto per tante ragioni, perché rimane sempre un giocatore che va un po' a spot, che si accende e si spegne anche nel corso della stessa partita. Ma non è cresciuto anche per il numero di infortuni e di stop che continua ad accumulare. E da questo punto di vista bisogna chiedersi con grande attenzione se vale la pena per la Juventus investire in quattro anni 80 milioni di euro per un giocatore che ha 28 anni compiuti negli ultimi tre anni ha fatto quasi 200 giorni di assenza per una ragione o per l'altra. Ecco, evidentemente, oltre alla discontinuità, che è una caratteristica di Dybala, capace di fare alcune cose meravigliose e poi di staccarsi completamente dalla partita o dalle partite per uno, due o tre gare, è anche un giocatore il cui futuro, dal punto di vista squisitamente dell'integrità fisica, deve essere messo in discussione. E allora ci si chiede, vale la pena investire così tanti soldi per un giocatore che l'ultimo anno andrà verso i 33 e che già a 28 e una volta è il polpaccio, una volta è un problema muscolare, una volta è un altro problema, ma è sempre lì che si ferma dopo pochi minuti. Questo è uno dei problemi che vanno risolti, così come va risolto il problema del gol. È vero che finalmente Morata ha rotto il digiuno, ma è altrettanto vero che tutti i giocatori d'attacco della Juventus sono pesantemente in ritardo su quanto ci si aspettava da loro. Per una ragione o per l'altra, lo stesso Chiesa, che adesso è infortunato, però si è fermato a tre gol, troppo pochi. Non parliamo di Ken, che tutte le volte che entra fa un po' rimpiangere l'operazione di 38 milioni di euro, per quanto arate, con cui è stato valutato. E bisogna dire che anche Caio Giorgio è sembrato molto lontano da quella che dovrebbe essere la caratteristica di un giocatore di talento già pronto, troppo giovane probabilmente, per la Serie A. Quindi, insomma, i problemi sono tanti. Le valutazioni errate non solo in sede di Campania Acquisti, ma anche del gruppo che ha fatto Allegri quando ha accettato un contratto molto oneroso, ma su cui evidentemente era pronto a scommettere rispetto al gruppo che doveva allenare, fanno pensare che la strada per la rinascita della Juve, soprattutto con le attuali contingenze economiche, sia piuttosto lunga. Non dimentichiamo che gli stessi revisori dei conti della Juventus, in fase di bilancio, hanno messo nero su bianco che per mantenere le prospettive economiche nei prossimi anni sarà necessario, nei prossimi tre anni, qualificarsi sempre per la Champions League e arrivare sempre almeno agli ottavi di finale. Ecco, in questo momento, dopo quest'ennesimo pareggio, già rischia di venire meno il primo postulato, sebbene ci sia tutto il tempo poi per ricrescere e ripartire. Veniamo al Milan. Beh, quello che è successo al Milan è francamente dell'incredibile. Cioè, contro il Sassuolo, Pioni, schiera in campo, contemporaneamente due riserve, due giocatori ampiamente sotto il livello dei due titolari, nessuno si spiega bene il perché. Il Milan cola a picco contro il Sassuolo, con Baccaioco e Ben Nassere. E alla fine della partita, nessuno ha avuto il buon senso, anche dei colleghi, di fare l'unica domanda veramente importante. Probabilmente anche loro erano un po' distratti, a Pioli. Cioè, ma perché una scelta di questo genere? Perché quando hai, che sì, che è un giocatore robusto, un giocatore che può avere anche un momento di calo di forma, ma che a livello atletico non è secondo nessuno, e quando hai Tonali, che ha 21 anni, che è nel pieno ormai della sua espressione fisica, perché li devi lasciare fuori? Soprattutto nell'unica competizione importante che tu puoi giocarti fino alla fine, perché diciamola tutta, non era contro il Liverpool che il Milan doveva giocare con la miglior squadra, se proprio doveva scegliere. Doveva farlo contro il Sassuolo e doveva farlo contro l'Udinese. Ebbene, dopo una prestazione pessima, che è nata proprio dall'aver cambiato completamente il blocco motore del Milan, via i due creatori di gioco, i due giocatori capaci, come dire, di legare la parte difensiva con quella offensiva, cioè Tonali e Chessi, dentro due riserve, ma due riserve che, per ragioni diverse, sono anni luce dai titolari. Il primo, Ben Nasser, che è un caso abbastanza misterioso di declino improvviso di un giocatore che sembrava destinato a diventare molto importante. Ve lo ricordate? Tre anni fa, quando arrivò il Milan, si diceva, già adesso è bravo, fra un anno o due sarà bravissimo. Infortuni, problemi vari, Ben Nasser pian piano si è perso. Sono i misteri del calcio, soprattutto non solo si è perso, non si sta ritrovando per niente. L'altro è Baccaio Co, che era un giocatore che già quando era venuto al Milan era stato sostanzialmente deludente, che quando è andato via non è stato rimpianto da nessuno, che è andato a Napoli e Napoli lo ha rispedito via dopo un anno con più ombre che luci, il Milan lo riporta a casa, Baccaio Co se è possibile è il peggior Baccaio Co che si sia mai visto in Italia e in una partita in cui serviva assolutamente vincere, soprattutto dopo la delusione di Champions League, in una partita in cui che si è tonali che poi entreranno dal primo minuto del secondo tempo dimostrando di stare benissimo, ecco il Milan che già aveva tanti problemi, perché non dimentichiamolo, manca Kier, manca Leao, manca Rebic, manca Giroud, manca Calabria, in una situazione di questo genere con due centrocampisti giovani che stanno bene, che sono in grado di fare la loro partita, l'allenatore togna anche i due titolari e mette altre due riservi, allora te la sei andato a cercare. Da questo punto di vista quello che ha fatto Pioli, che pure ha fatto crescere questo gruppo e che merita la stima dei tifosi milanisti, ma quello che ha fatto e rifatto Pioli è assolutamente colpevole e grave e non deve essere più ripetuto, perché la cosa che veramente balza all'occhio è che non abbia capito la lezione che già c'era stata col Sassuolo, ha pervicacemente riproposto lo stesso centrocampo ottenendo lo stesso identico risultato e siccome perseverare è diabolico per quanto Pioli sia il Milan, forse è meglio che lasci questi tipi di atteggiamenti, di scelte così diaboliche fuori dallo spogliatorio e fuori dall'organizzazione di una squadra che ha ancora tutto il tempo per potersi riprendere ma che ha bisogno di giocare sempre costantemente con i suoi migliori giocatori, soprattutto quando è così in emergenza per le assenze. Grazie.